Lui non ha la più ballita idea di quanto possa valere questa paroletta. E ora che facciamo? Dobbiamo assolutamente raggiungere. In futuro questo esperimento potrebbe essere tentato anche su... È difficile trovare parole giuste. Non vorrò finire questa serata meravigliosa. Sono così felice. Volevo solo dire che... E basta! Ma non si capisce niente! Ma che tra le re? È inutile che ti scaldi, Lillo. Ormai si usa così nei trailer. Ma non si capisce una mazza! Comunque un film divertentissimo che parla di... E porca zozza! Quanto rabbrividiamo davanti a traduzioni pessime di titoli di film stranieri? Qualche esempio? Fatti strafatti e strafighe, per esempio, versione italiana di Dude, Where is my car? Cosa c'entra? The Break Up, diventato Ti odio ti lascio ti, puntini puntini. E Eternal Sunshine of the Spotless Mind, diventato Se mi lasci ti cancello. Quello aggiungereste voi? Fatemi sapere! E se volete indossare questa bella maglietta, eccola qua, cliccate qui sotto per scoprire come. Ciao da Valeria!